ciao a tutti benvenuti nel canale in questo video vi spiegherò come aprire questa cassaforte e come ovviamente arrivarci mi trovo nella città sommersa o perlomeno il capitolo è questo una volta che siete arrivati qui con la barca scendete dalla barca e salite ai piani alti quindi usate questa rampa questa scala andate in fondo qui e troverete un biglietto che vedremo tra poco con la combinazione poi spostatevi qui spostate questo carrello e scendete in basso qui quindi attraversate questa parte saltate qui saltate giù e vi ritroverete davanti la cassaforte la combinazione che è presente sul foglio che avete raccolto è 70 70 12 12 64 64 64 e la cassaforte è aperta a 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